In quest'Aula, signora Ana San Suu Kyi, in uno dei voti più sani della Capitale, Roma è felice di consegnarle la Pelgarina e la Lupa Capitolina, singoli dello Stato di cittadino romano, conferindole dal Consiglio Comunale di Roma nel 1994, su proposta del sindaco Francesco Lutè. Oggi è finalmente l'occasione per consegnarle anche il premio Roma per la pace e l'azione umanitaria, che Walter Bertrone, nel 2007 sindaco di Roma, gli aveva conferito, ritirato e che aveva fatto un po' di cose che aveva fatto. E' sempre un'occasione per me quando le persone dicono che sono molto bravo o non riuscire, che ho fatto grandi cose, perché non credo che ho fatto nulla, ma ho fatto solo quello che credo in. Ho scoperto il fatto che ho scoperto. Ho scoperto il fatto che ho scoperto. Ho scoperto il fatto che ho scoperto. Ho scoperto il fatto che ho scoperto i sacrifici. Ho detto di nuovo e di nuovo che ho fatto nuovi sacrifici, ho solo scoperto. Mi sono credo sempre che ho scoperto che ho scoperto come sei stata coraggiosa, hai realizzato grandissime cose, ma in realtà io non ho fatto niente di particolare. Ho semplicemente fatto quello in cui ho creduto. Ho scelto una strada e l'ho seguita fino in fondo. Quindi da me questo non è stato un sacrificio, la mia vita non è stata fatta di sacrifici, ma di scoperto. E sono veramente felice e sono grato di voi per avermi scelto come concittadina di questa città. La mia vita non è stata fatta di sacrifici, ma anche la mia vita non è stata fatta di sacrifici. Grazie. 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 Grazie.